Riprendiamo una collaborazione decennale con la casa di riposo Fossombroni ed è un progetto interessante perché vede la partecipazione di quattro detenuti che hanno ovviamente fatto un percorso di rieducativa importante e quindi attraverso questi lavori di pubblica utilità, diciamo in un certo senso, restituiscono alla società quello che avevano tolto. Quattro detenuti del carcere Aretino di San Benedetto alla Casa Pia per i lavori socialmente utili come la pulizia, la manutenzione, la conservazione degli spazi verdi interni ed esterni alla struttura per anziani. Si tratta della convenzione tra casa circondariale e casa di riposo Fossombroni. Spesso abbiamo parlato, abbiamo avuto attività di volontariato qui all'interno e poi è nata l'idea di fare una convenzione per i lavori di pubblica utilità, quelle che denominate io mi riscatto per. Da lì è stata stipulata questa convenzione, i detenuti si sono messi a disposizione e hanno fatto questo lavoro di manutenzione del verde. È importante perché i detenuti hanno la possibilità di riscattare il reato commesso, di fare qualcosa per la società e bisogna dire che come anche la dottoressa Papi siamo stati presenti e i detenuti spesso scrivono qualche cosa per il loro. Hanno mandato un sole, mi sembra, delle opere che loro fanno, perciò ci tengono anche particolarmente ad avere un buon rapporto. Le due realtà cittadine sono infatti unite da uno storico legame che fino alla brusca interruzione per l'emergenza sanitaria ha permesso nel corso degli anni di prevedere numerose attività comuni e che ora ha trovato una nuova linfa con l'attivazione del protocollo denominato Miriscatto Perra. La convenzione si inserisce sul solco della legge 345 del 1975 che prevede che detenuti ed internati possano chiedere di essere ammessi a prestare la loro attività a titolo volontario e gratuito nell'ambito di progetti di pubblica utilità. Queste attività sono così caratterizzate da un'importante funzione sociale. Questa è la funzione proprio del lavoro di pubblica utilità. Restituire un detenuto rieducato che metta a disposizione il proprio lavoro a costo zero. Questo è importante sottolinearlo per il bene comune. La convenzione di durata biennale rinnovabile tacitamente di anno in anno è stata progettata con l'obiettivo di garantire continuità ai lavori anche in caso di nuovo peggioramento della situazione sanitaria e di conseguente chiusura delle case di riposo. Questo particolare progetto della manutenzione del verde e del giardino permette proprio di fare questa cosa anche nei momenti in cui noi abbiamo ancora queste restrizioni perché lavorando fuori non c'è contatto con gli ospiti. Lo spazio verde è enorme e tra l'altro c'è un bisogno di risistemare tutta la zona verde per cui c'è un risedio esterno di 3.000 metri quadrati per cui ci sarà un tantissimo lavoro da fare e abbiamo, ripeto, l'esperienza di sabato scorso è stata già quella bellissima.